La società così punti in alto, poi dove arriviamo, arriviamo, però le potenzialità di questa meravigliosa società che amo veramente tanto perché ha formato mio figlio, forma tanti ragazzi a cui tengo e ne formerà ancora, merita. In generale hai consolidato quello che è il pacchetto dei consiglieri che erano facenti parte del vecchio consiglio, ma la novità più rilevante sarà quella dei due vicepresidenti che sono stati a te vicini all'inizio della tua carriera qui all'interno. Sì, allora è stata riconfermata tutto il gruppo, ci sono alcune novità che sono Matteo Leonelli che è colui che mi ha affiancato nell'ultimo periodo negli eventi, Mariella Gutierrez che seguirà probabilmente tutto il settore femminile e Adriano Nardi che seguirà, proporremo, che segua la serie C. Poi sì, al mio fianco ho chiesto la collaborazione di Maurizio e Federico con i quali abbiamo iniziato questa avventura sempre da genitori, da accompagnatori e tutta la filiera che c'è stata. Velleità non solo di tipo agonistico, visto che hai riconformato la voglia di portare in alto il più possibile sia le squadre minori che le squadre maggiori, ma anche velleità per mantenere un solido tessuto sportivo con un sacco di squadre minori e con un grande numero di giocatori. Sì, è quello che il Villorba è, è una società riconosciuta ed è una società che deve rimanere nei vertici ed essere anche punto di riferimento e per far questo dobbiamo essere all'altezza, quindi portare il mini rugby ad avere numeri maggiori, dobbiamo aiutare i nostri tecnici nella continua formazione, dobbiamo fare tutto quello che serve per rendere grande, continuare a rendere grande questa società che è il Villorba Rugby. Un ultimo accenno riguarda il tuo recente passato in società, sei stata una delle colonne portanti per quel che riguarda l'attività degli eventi e tutto quello che è la Clubhouse, ecco hai lasciato in buone mani, potrai seguire ancora, non vorrai più seguire questa cosa. No, allora diciamo che il testimone passa a Matteo Leonelli, io nelle retrovie per quello che potrò rimarrò sempre a seguire questi eventi, mi manterrò il collegamento con il Villaggio San Francesco del gruppo Be Holiday e comunque ci sarò sempre, e magari alle volte mi intro fullerò di nascosto perché ho i miei due vice presidenti che mi terranno sempre d'occhio perché faccia al meglio il rappresentante di questa società, ma dai lasciatemi qualche volta sfogare e ritornare ad essere uno che lavora, che ha le mani in pasta.